Oggi a Passate Presente parliamo della battaglia di Azio, siamo nel 31 avanti Cristo ed è lo scontro finale fra Ottaviano che vincerà e dopo prenderà il nome di Augusto, Imperatore Augusto, contro Antonio e Cleopatra. Non è una semplice battaglia, è quasi l'inizio di una guerra di civiltà. Da una parte la soluzione occidentale, quella impersonata da Ottaviano, dall'altra quella ellenizzante orientale che ha i suoi punti di riferimento a Antonio e Cleopatra. Tra l'altro è un momento della storia reso celebre da un celeberrimo dramma di William Shakespeare del 1607. Della battaglia di Azio parliamo oggi con il professor Alessandro Barbero e con i nostri tre giovani storici Saverio Albertano, Davide Esposito e Maria Grazia Cinti. Particolare e studiosa Maria Grazia Cinti, stia attento professore a quello che dirà perché ha approfondito meglio di tutti gli altri senza nulla voler tagliare a loro. La questione è perché la battaglia di Azio è particolare, importante? Fra le mille battaglie dell'antichità perché noi ricordiamo la battaglia di Azio? Perché noi ricordiamo un impero romano che è stato fondato da Ottaviano e Ottaviano è stato proclamato Augusto dal Senato e dopo di lui per secoli gli imperatori hanno continuato a chiamarsi Augusti e a richiamarsi a Ottaviano come fondatore di quell'impero. Se la battaglia di Azio fosse andata in un altro modo non l'avrebbe fondato Ottaviano l'impero, l'avrebbe fondato Antonio. E che cambiava? E cambiava moltissimo perché Ottaviano sostanzialmente rappresentava la vecchia elite senatoria romana italiana, occidentale, legata a un primato dell'Occidente mentre Antonio aveva avuto un'altra intuizione cioè la potenza dell'Oriente, la ricchezza dell'Egitto, dell'Asia che sono tutte cose che nella storia romana verranno fuori più tardi, ecco secoli dopo Costantino avrà un'idea del genere spostiamoci a Oriente. Se avesse vinto a Azio Antonio l'avrebbe già fatto molti secoli prima. Quindi ricordiamo, è la battaglia in cui ci sono da una parte Ottaviano e il futuro Augusto, dall'altra Antonio e Cleopatra e lei ci sta dando una lettura suggestiva di cosa significava quell'unione fra Antonio e Cleopatra perché noi la conosciamo un amore in modo letterario. Però in realtà è il punto di contatto fra un grandissimo della storia antica, Antonio, e l'Oriente rappresentato in questo caso da Cleopatra era un punto simbolico di congiunzione per un'ipotesi cosa sarebbe cambiato nella storia dell'umanità se avesse vinto al 31 a.C. l'ipotesi orientale al posto di quella occidentale Ma probabilmente l'impero sarebbe diventato ancora prima di quello che poi è successo davvero non l'impero romano ma l'impero greco-romano bisogna dire che oggi gli studiosi di queste cose sempre più spesso tendono a dire attenzione noi lo capiremmo molto meglio quell'impero se lo chiamassimo l'impero greco-romano perché la cultura dell'Oriente, le religioni dell'Oriente, fra cui il cristianesimo, ecco la ricchezza dell'Oriente sono fondamentali nella storia di Roma però dall'altra parte c'è un Senato aggrappato all'idea di Roma, dell'Occidente dei vecchi valori repubblicani, mentre l'Oriente vuol dire la tirannide, no, fastosa e dall'altra l'austerità romana ecco se avesse vinto già nel primo secolo l'Oriente con i suoi valori forse anche l'Europa sarebbe venuta fuori a un'Europa greca piuttosto che latina per esempio perfetto e allora andiamo al primo capitolo di questa storia e guardiamola bene Ottaviano contro Antonio Due anni dopo l'uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15 marzo del 44 avanti Cristo nella battaglia di Filippi in Macedonia i triunviri Antonio, Ottaviano e Lepido sconfiggono i suoi assassini, Giunio Bruto e Cassio Longino e assumono il controllo delle province romane il popolo si augura che sia finita l'epoca delle guerre civili, non sarà così Ottaviano controlla adesso l'Occidente romano, mentre Antonio amministra i domini di Oriente un accordo sancito dal matrimonio di Antonio con Ottavia, sorella di Ottaviano ed è proprio in Oriente, a Tarso, che Antonio incontra Cleopatra VII dei Tolomei, regina d'Egitto il suo fascino aveva già catturato il grande Cesare tra i due nasce un'intesa che durerà per il resto della vita non c'è intesa invece tra Ottaviano e Antonio la loro non è un'alleanza ma una rivalità Antonio è un uomo di Cesare, ma Ottaviano è il suo erede designato palladino dell'orgoglio nazionalista romano i due danno corpo a due visioni del mondo antagoniste, destinate a scontrarsi Ormai i progetti di Antonio sono legati all'Oriente, all'antico regno d'Egitto che lo ha sedotto Al fianco di Cleopatra regna ad Alessandria come un monarca orientale sognando una monarchia più grande di quella di Alessandro Magno Nel 34 a.C. Marco Antonio dichiara nel testamento che le nuove conquiste e i territori già acquisiti dall'Egitto saranno divisi fra i tre figli che ha con Cleopatra e Cesarione, figlio della regina avuto da Cesare Nulla resta per Roma, né per la famiglia romana di Marco Antonio Ma c'è di più, Antonio ripudia Ottavia e mostra di preferire Cleopatra alla legittima moglie romana Un insulto che disgusta l'opinione pubblica di Roma Il dado è tratto, Ottaviano non perde l'occasione e spinge il Senato a dichiarare guerra all'Egitto Quella che a tutti gli effetti sarebbe stata una nuova guerra civile Viene fatta passare per la guerra dell'Occidente romano contro le mollezze dell'Oriente greco Antonio e Cleopatra, risoluti ad attaccare Roma partono con la loro flotta in direzione della Magna Grecia Il maltempo li costringe a ripiegare in Grecia, nella Baia di Azio E' il 2 settembre del 31 avanti Cristo La battaglia sta per cominciare Maria, grazie a Cinti Sì, noi dobbiamo considerare che proprio questa difesa della romanità nei confronti della tirannide E anche un po' dell'orientalizzazione che stava vivendo l'impero romano Tant'è che Ottaviano non muove guerra contro Antonio propriamente Ma muove guerra contro Cleopatra Quindi diciamo che aggira un pochino l'ostacolo Che avrebbe potuto vedere un romano contro un romano Cioè lui preferisce un romano contro una egizia che in realtà era tue le mani Bossa intelligente questa Perché di fronte a una opzione di questo tipo Il Senato non può che scegliere un romano Perché dovrebbe scegliere un orientale Appunto, Antonio sperava che in realtà il peso dell'Oriente fosse ormai già tale Da dargli la vittoria poi sul campo E ci va anche vicino in realtà Perché quella guerra Antonio e Cleopatra la fanno all'attacco All'inizio sembra che siano loro che rischiano di sbarcare in Italia E andare a Roma e spiegare al Senato chi deve nominare Augusto Poi l'azzardo di una battaglia cambia tutto Però era veramente appesa a un filo la cosa Quanto ai romani loro da sempre hanno questa cosa Nella, diciamo, quello che diceva Maria Grazia Cinti C'è qualcosa sotto Perché Antonio accetta di perdere il favore del Senato Perché è chiaro che il Senato ha messo di fronte l'alternativa Fra un romano e un'egiziana Sceglierà il romano Perché Antonio non svela questo trucco di Ottaviano? Allora, beh, dunque, intanto naturalmente c'è la risposta poetica Si era innamorato di Cleopatra Io questa non l'accetto Non la vuole questa Non voglio Perché io sono convinto che tutta quella storia è un racconto Per spiegare come a un certo punto Roma si divise Fra quelli che sceglievano l'ipotesi orientale E quelli Siccome già Cesare aveva avuto un'indulgenza per questa scelta orientale Sia l'indulgenza di Cesare che quella di Antonio Vengono raccontate dalla storia come un innamoramento E' legittimo Gli austeri romani non riescono a immaginare altrimenti un leader romano Che fa una scelta così strana Allora, qual è il punto? Io credo che sia questo Il Senato è il passato In quel momento Roma sta vivendo una crisi di transizione spaventosa Nessuno sa qual è il futuro Ottaviano forse comincia a prevederlo Quello che Ottaviano farà sarà di dire Noi avremo un impero, un autocrate Un uomo che ha un potere assoluto Ma che lo dissimula E che di fatto continua a governare d'accordo con il Senato Non era mica detto che andasse così Probabilmente Antonio ha in mente un modello diverso In cui il Senato che è la vecchia repubblica La vecchia oligarchia Di fronte al nuovo sistema Alla dittatura individuale Il Senato si spazza via anche perché no Solo noi sappiamo che poi il modello vincente È stato l'accoppiata dell'imperator Con un Senato Verso cui l'imperatore in teoria Riservava il massimo ossequio La massima deferenza Senta professore Adesso entriamo Le faccio vedere un filmato su Cleopatra Regina d'Egitto Ma le chiedo prima Cosa aveva Cleopatra di così particolare Per sedurre Lo dico tra virgolette Due grandi della storia Come Cesare e Marco Antonio L'avverto che non lo è consentito Dire era bellissima Eh no appunto Perché anzi Nemmeno dire sedurre a questo punto Perché lei ci ha insegnato un attimo fa Che lì sotto c'era la politica E non l'innamoramento Per quanto Questi erano uomini anche sensuali E che spesso si facevano dominare Dalle loro passioni E non bisogna pensare che fossero Cinici, calcolatori e basta Però non c'è bisogno del naso di Cleopatra Ecco per sapere come mai succede questo Il punto è che l'Egitto A noi oggi può sembrare un posto marginale No? Del Mediterraneo L'Egitto era Primo Il più grande regno indipendente Che ci fosse ancora nel Mediterraneo Secondo Un'antichissima civiltà Che tutti ammiravano E anche all'epoca di Roma Ma era ancora l'antico Egitto Con i suoi dei Con i suoi geroglifici Con i suoi riti Ecco Poi era un paese straricco Quando noi leggiamo sui manuali Il Nilo Le inondazioni del Nilo I raccolti di grano Lo leggiamo nel capitolo Sull'antico Egitto Ma era ancora sempre vero a quel tempo E lo sarà ancora per secoli L'Egitto è straricco Produce abbastanza grano Da mantenere tutto l'impero E ha una regina bellissima Vediamola Cleopatra Regina d'Egitto Quando nel 51 avanti Cristo Cleopatra diventa regina L'Egitto è già uno stato satellite di Roma Il suo regno inizia al fianco del fratello Tolomeo Come ausanza ancestrale dei faraoni egiziani Cleopatra sedurrà gli uomini più importanti d'Occidente Piegandoli ai suoi piani Prima Cesare Poi Marco Antonio Con il quale medita di distruggere Roma E di creare la più grande monarchia ellenistica mai esistita Cleopatra è tante donne La straniera che introduce a Roma gusti e costumi orientali La maliarda che Ottaviano odia È anche madre Di Cesarione Il figlio avuto con Cesare E di altri tre figli di Antonio Cleopatra Lo dice Plutarco Parla sei lingue Oltre al greco E anche la lingua degli antichi egizi È una dea vivente Tutta la sua politica Mira a restituire splendore al suo regno Le sue vicende Entreranno nella leggenda E la sua morte Segnerà la fine dell'età ellenistica Professor Barbero Mi permetta di far dirimere la questione sull'aspetto fisico E la personalità anche di Cleopatra Alla nostra esperta Maria Grazia Cinti Pensavo che toccasse a Davide Invece no Sì perché in realtà leggendo le fonti letterarie Ci sono delle visioni opposte Cioè leggendo Cassio Dione Cassio Dione dice che Cleopatra Era una donna di una straordinaria bellezza Poi in realtà leggendo Plutarco Plutarco dice veramente Non era una donna di così straordinaria bellezza Era una donna sicuramente simpatica e intelligente Quindi forse noi dobbiamo vedere Cleopatra Come una donna che sapeva usare le proprie armi E certamente dinamica Una donna insomma diretta E non la bellezza che insomma Ha incarnato nel corso dei secoli Davide Esposito Aspetti prima Lei che idea si è fatto di Cleopatra? Beh diciamo che il problema è che è un personaggio fortemente mitizzato Alla fine è al centro ad esempio di un'opera di Shakespeare Insieme a Marco Antonio Quindi ha un po' quell'ombra di maledettismo anche per la sua morte Alla fine noi storici dobbiamo cercare di riportare Diciamo alla terra Era una grossa personalità Adesso al di là dell'aspetto fisico Era un personaggio Capiva la politica? Era capiva di questioni militari? Secondo lei Mi dica un suo nome Secondo me era più Marco Antonio Secondo lei Cleopatra è l'anima di questa alleanza o è subalterna a Marco Antonio? Allora vogliamo dire che nessuno ne sa niente E non ne sapevano niente neanche gli autori che noi abbiamo citato adesso Ma io ho detto l'idea che lei se n'è fatta Studiandola e ristudiandola Io ho imparato che le idee sono una cosa pericolosa Le idee che uno si fa Bisogna partire da quello che possiamo davvero sapere Cassio Dione vive due secoli dopo Plutarco vive un secolo dopo Nessuno di loro l'aveva mai vista Cleopatra Ed erano pettegoli Come molti di questi intellettuali Tardo antichi e tardo antichi Allora Cleopatra però è sicuramente Un politico straordinario Perché si trova a giocare un ruolo di estrema difficoltà Poi perde Sì ma due volte riesce a fare la partita Nell'antichità Una cosa che mi colpisce Due volte nell'arco di una vita umana E a distanza di pochissimi anni Certo però pensate chi è Cleopatra Cleopatra appunto io ho detto L'Egitto è ancora l'antico Egitto dei geroglifici Delle mummie e degli dei Certo Però questo antico Egitto è stato conquistato da Alessandro Magno Cleopatra è greca È la discendente di un generale di Alessandro Magno Questi greci Con la loro cultura razionale appunto E così via Hanno dovuto imparare a governare gli egiziani Cioè un popolo che invece Ha una mentalità completamente diversa Cleopatra è una greca Ma che è la figlia di un faraone egiziano Che sposa suo fratello Come facevano gli antichi egizi Da millenni Cioè deve navigare Fra due mondi Due culture Brava doveva essere brava Eccovi Tre mondi Perché poi ci sono i romani Che vengono a mettere il naso In Egitto Però dice giustamente Davide Esposito Che una prova provata Individuale Della sua capacità politico-militare Non c'è stata tramandata Militare non mi pronuncerei neanch'io Politica Insomma appunto Come diceva lei Sopravvivere a Cesare E per un pelo anche a Ottaviano Non era da tutti Ma bene Entriamo allora Nel secondo capitolo Che è la vera e propria battaglia di Azio Lo scontro in mare Antonio Malgrado la sua superiorità strategica e tattica Nella guerra di terra Decide di attaccare in mare Nella flotta di Ottavio ci sono quelli Che già e più di una volta Combatterono contro Pompeo Le sue navi sono leggere Le tue sono barconi pesanti Se rifiuti la battaglia sul mare Tu così ben preparato sulla terraferma Hai partita vinta E senza ombra di disonore Per questo tuo rifiuto Sul mare Sul mare Degnissimo signore Tu ti giochi a piastrelle L'assoluta superiorità che hai in terraferma Frantumi il tuo esercizio Un esercito costituito in prevalenza di fanterie agguerrite Metti in un canto la tua famosa esperienza militare Abbandoni una salda certezza di vittoria Per il capriccio Di buttarti all'avventura e allo sbaraglio Io ho 60 navi che non ne ha di meglio Ottavio Cesare Sul mare Sul mare È il 2 settembre del 31 avanti Cristo Nella baia di Azio Le flotte di Antonio e di Ottaviano Si fronteggiano Improvvisamente Verso mezzogiorno Cleopatra ordina le sue 60 navi Di ripiegare Antonio disorientato la segue È l'episodio che segnerà le sorti Della battaglia E la sconfitta di Antonio e Cleopatra Ottaviano ordina i suoi soldati Di lanciare dardi infuocati Contro le navi nemiche Migliaia e migliaia di uomini Muoiono quel giorno Nelle acque greche di Azio In una battaglia navale Che vede combattere Romani contro Romani In un vero scontro di civiltà Davide Esposito A chi va il merito di quella vittoria? Cioè con chi lo deve condividere Ottaviano? Beh secondo me il merito Non è assolutamente o quasi di Ottaviano È tutto di Agrippa Cioè il comandante delle sue flotte Perché alla fine se noi leggiamo Svetonio, Augusto Non è che fosse questo grande condottiero Anzi se ne sta in disparte Sta in una scialuppa Durante la battaglia contro Sesto Pompeo Addirittura dorme È Agrippa che fa tutto il lavoro sport Possiamo fidarci di Svetonio? Naturalmente no Però non bisogna mai fidarsi di nessuno Oggi lei professore è molto puntuta Comunque Però che Ottaviano non dovesse essere Un grande uomo di guerra Viene fuori da tutta la sua carriera Ottaviano è un politico È uno che sa gestire intrighi Gestire alleanze Un politico spietato Quando ce n'è bisogno E poi fa vincere le battaglie Avendo scelto degli ottimi generali Che è anche una caratteristica Di un buon politico Ecco lei ha descritto Tra le righe La grandezza nell'antichità Non è necessario essere Un grande condottiero È il momento in cui La politica Trionfa sulle arti militari Perché un grande politico E sicuramente Augusto Adesso lo chiamiamo già Augusto Lo sarà È un grande politico Sa anche scegliersi Dei generali O dei collaboratori Di primissimo livello E non teme Fidando nella sua superiorità politica Non teme che Questi poi congiurino Contro di lui Perché è uno dei motivi Per cui Prendevano dei collaboratori Mediocri Era anche Quello di non avere Quello di non avere Dei possibili congiurati Quello è un problema E lo rimarrà sempre Nel senso che la politica Non è un mestiere Che ti permette di riposarti Da quello che mi sembra Di aver capito E allora perché Augusto poi non avrà mai Congiure contro di lui Perché nessuno Ordirà Colpi di Stato Ecco io so che è certamente Eretico paragonare Augusto a Stalin Però qualcosa in comune Ce l'avevano Facevano fuori la gente Prima che cominciasse A congiurare Io credo che Augusto e Livia Sua moglie Che lo aiutava A fare gli elenchi Abbiano provveduto A far fuori Così tanta gente Appunto Prima che diventasse Pericolosa Da liberarsi Il campo Dai rischi Di congiure Di opposizione E poi È bravo Nel comprare Gli intellettuali Mettiamo anche questo Direi di sì Direi di sì Se pensiamo a Virgilio Basta quel nome lì Ecco l'importanza Della battaglia di Azio Dalla battaglia di Azio È Innanzitutto Quello che lei ha detto All'inizio Il confronto Fra due ipotesi E una di quelle occasioni In cui nel 31 a.C. Ci sono due strade Per la storia Dell'umanità E se ne sceglie una Ma se ne sceglie una Che non naufraga immediatamente Perché c'è immediatamente Subito Di interpretarla Un personaggio grandissimo Della politica Che ha le caratteristiche Che lei Ha descritto Sì 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 no È certamente così Diciamo Non mi sentirei di dire Doveva finire così Per forza Non mi sentirei di dire Era inevitabile Che vincesse l'Occidente Ma una volta che ha vinto Aveva tutte le carte in mano Per continuare Chissà se Antonio Le avrebbe avute invece Antonio e Bertano Una piccola domanda E mi sono sempre posto Tornando un secondo Alla battaglia vera e propria Fattore determinante Poiché le forze Pare siano state Abbastanza equilibrate È stata la fuga Per così si può dire Di Clopata Che ha portato le sue 60 navi E è ritornata in Egitto E Marco Antonio L'ha seguita Questo ritorno in Egitto E se parlo dell'Egitto E non di province romane A me è sempre sembrato Però come quasi una resa Cioè Marco Antonio Non va nelle province Dove vi sono delle legioni Che potrebbero costituire Un nuovo nucleo Per ripartire Ma lui ritorna in Egitto Lui si arrende Però Ottaviano A quanto pare Sbarca un anno dopo E lo fa pure fuori Un po' di tempo dopo Infatti Ecco non dimentichiamo Che Ottaviano Può anche aver Che Antonio Può anche aver pensato Che invece l'Egitto Fosse la base più sicura Da cui ripartire Perché appunto Deve aver intuito A un certo momento Che la sua politica Di una Roma orientale Era debole Intrinsecamente debole Perché la mentalità Dell'aristocrazia romana Non lo seguiva In quella direzione Allora dopo una battaglia Perduta Non hai nessuna garanzia Che nelle province romane Che in teoria Sarebbero tue Non nasca un'opposizione Che ti fa fuori Mentre l'Egitto Non è ancora una provincia romana L'Egitto è di Cleopatra È un regno indipendente Ha un'immensa metropoli Come Alessandria Ha una potenza navale E Antonio si è illuso Di potersi trincerare lì E poi ripartire A proposito di questo C'era anche l'ipote Di spostare la capitale Dell'impero Ad Alessandria Se avesse vinto Antonio Oggi è la fiera dei sì E me ne scuso Con gli spettatori Ma se avesse vinto Antonio E Cleopatra È possibile che la capitale Tra l'altro Alessandria era collocata Geograficamente In una posizione Molto molto migliore di Roma Fu avanzata questa ipotesi? Dunque io non so se fu avanzata Esplicitamente E in ogni caso Sarebbe stata buona politica Non dirlo Troppo in giro Però sarebbe successo Teniamo anche conto Che noi parliamo Della capitale dell'impero Come se fosse un concetto ovvio Invece non è un concetto ovvio L'impero ha una metropoli Cioè una città Che l'ha conquistato Ed è Roma E Roma in questo senso Sarà la padrone dell'impero Sempre Anche quando Costantino Trasferirà a Costantinopoli Ma la metropoli dell'impero Rimane Roma Sarà il sacco di Roma Da parte dei goti Che scioccherà il mondo Anche se gli imperatori a Roma Non ci stanno più Da un sacco di tempo Quindi Roma avrebbe continuato A essere il centro dell'impero Ma Antonio Augusto Probabilmente avrebbe preferito Abitare ad Alessandria Certo Ma possiamo ipotizzare Parlando della lingua moderna Che sarebbe rimasto Il posto simbolico Roma come capitale Come Washington New York negli Stati Uniti Alessandria sarebbe stata New York E forse Roma sarebbe rimasta Una Washington Ancora più piccola di Washington Sì Ma forse il contrario Dire il vero Cioè Roma sarebbe stata New York La grande metropoli straricca Dove è concentrato Il potere finanziario Ed economico E Alessandria Che pure era straricca Anche lei Sarebbe stata la capitale Dei ministeri E adesso Entriamo Nel terzo capitolo Muoiono Antonio e Cleopatra E inizia l'era Di cui stavamo parlando Quella di Ottaviano Che diventerà Augusto Non pensare a questa mia fine meschina Ma serva di me il ricordo Un anno dopo la vittoria di Azio Alessandria d'Egitto Cade nelle mani di Ottaviano Antonio preferisce la morte Al disonore E ricorda che sono un romano Vinto con onore da un romano Nobilissimo tra gli uomini Resterò io in questo mondo spento E senza di te È soltanto un porcile Undici giorni dopo la morte di Antonio Cleopatra decide di seguire il destino dell'amante Sceglie una morte dolce Col veleno di un aspide Povero stupidello gonfio di veleno Arrabbiati E fa presto Antonio Marco Antonio e Cleopatra muoiono entrambi ad Alessandria d'Egitto Dopo che i romani conquistano quella città Che nei loro sogni doveva essere una nuova Roma Anzi l'anti Roma Ottaviano fa giustiziare Cesarione E annette l'Egitto Che diventa così provincia romana La battaglia di Azio ha decretato la fine dell'ultimo dei regni ellenistici E l'inizio del principato di Ottaviano Augusto Che si definisce primus inter pares tra i senatori Inaugurando l'era dell'impero Sulla sua figura si accentrano tutti i poteri dello Stato Quello amministrativo e quello militare Con il titolo di Augusto Nel 27 a.C. il suo principato viene legittimato Anche da un punto di vista religioso Ottaviano è il nuovo Romolo Maria Grazia Cinti Cleopatra ultima regina dell'Egitto Sì, Cleopatra ultima regina dell'Egitto Dell'età ellenistica Anche se poi Come sappiamo Come abbiamo detto in precedenza L'ellenismo dilagherà a Roma E continuerà a fiorire a Roma Perché Proprio la cultura ellenistica Non muore con l'ultima regina Cioè Cleopatra Anzi Continua questa cultura E questo fascino Quindi Cleopatra in sé Racchiude tutto il fascino dell'ellenismo Anche dopo la sua morte Se mi posso riallacciare A proposito Davide Esposito Certo Della questione del fascino Mi è sempre sembrato Pensando a questi personaggi Della grande Roma antica Che in realtà sono gli sconfitti Ad essere maggiormente celebrati Le Cleopatra Marco Antonio Lo stesso Cesare Che fa una brutta fine Augusto mi è sempre sembrato Personaggio un po' come Carlo Magno Che su cui Barbero ha scritto il libro Troppo perfettino Per essere celebrato Dalla cinematografia Dalla fine Sono i personaggi maledetti Quelli che hanno successo Nell'iconografia Sì E non soltanto a Hollywood Ma anche nei teatri di Londra Al tempo della regina Elisabetta Prima E' chiaro Le tragedie si possono fare Su quelli che sono morti Di mala morte E non su quelli che sono morti Nel loro letto Sì ma C'è anche una simpatia Di coloro che ne scrivono Una simpatia Un'ammirazione Un Un pathos Comunque In fondo è vero Che noi abbiamo passato Tutta buona mezz'ora A descrivere La grandezza di Augusto E ancora ne parleremo Però Augusto Come diceva Davide Esposito Non ha mai infiammato Gli animi degli scrittori Di tragedie Commedie Romanzi Mentre invece Marco Antonio Sì Cesare sì Cleopatra sì Perché? E direi anche di più Visto che abbiamo assodato Il fatto che non è che appunto Cassio Dione o Plutarco Ne sapessero molto più di Shakespeare E allora è legittimo Parlare anche di Shakespeare Perché la nostra immagine Non la realtà dell'epoca Ma la nostra immagine Di quei personaggi L'ha plasmata anche Shakespeare E tuttora continuiamo a vedere Dei film Che magari mettono in scena Le tragedie di Shakespeare Pensi a come Shakespeare rappresenta Marco Antonio In due momenti Diversissimi Della sua vita Il Marco Antonio Del Giulio Cesare Che all'indomani Dell'uccisione di Cesare È un giovane Fortissimo Un politicante Spietato Che è capace Di ribaltare L'atteggiamento Dell'opinione pubblica romana Perché i romani Stanno acclamando Gli omicidi di Cesare E poi entra in scena Marco Antonio E fa questo grandioso discorso Che poi in un film Meraviglioso Sarà Marlon Brando A rappresentare E lì Antonio è il giovane Politico Vittorioso Formidabile Senza scrupoli E poi lo stesso Shakespeare Rappresenta Marco Antonio Un po' di anni dopo Che è l'uomo di potere Ormai in declino Che ha fatto le scelte Sbagliate E che si sta perdendo Ecco E anche questo È un pathos straordinario Saper rappresentare Lo stesso personaggio In due modi così diversi Forse Shakespeare Ci vuole dare Una sua riflessione Sulla politica Attraverso l'inizio E la fine Di Marco Antonio Sì E io credo che noi Potremmo tirar fuori Tanti esempi Di come Un Mussolini Giovane E un Mussolini Negli anni di Salò È la stessa persona Sotto certi aspetti Ma ad altri punti di vista Vive in tragedie Completamente diverse Certo Albertano Sì L'Inghilterra Elisabettiana Però Deschè Marco Antonio Non saranno mai romani Ci scordiamo spesso E Marco Antonio È stato il primo A subire la damnazio memoria Da parte della propaganda Agustea Che è riuscita A dirigere In maniera perfetta La costituzione Dell'identità Del primo imperatore Che è Augusto Io me l'immagino Sempre nella sua veste Da pontefice massimo Mentre Marco Antonio Continua a rigirare Quando ci penso L'immagine di lui nudo Che corre per il Lupercalia Cioè C'è una costituzione Di una propaganda Che secondo me Riesce tuttora oggi A farsi sentire presente Nell'immagine popolare Di due personaggi Sì E direi anche Che è un luogo comune Che a noi storici Da tanto fastidio Quando la gente ci dice La storia La scrivono i vincitori E a noi da fastidio Perché sappiamo Che oggi Non è così E oggi Gli storici Sono liberissimi Di scrivere Qualunque cosa E su tutto Escono libri Anche dal punto di vista Degli sconfitti E invece però Per l'antichità È un po' così Effettivamente Noi non abbiamo La versione di Marco Antonio O la versione di Cleopatra Di quello che è successo In quegli anni Non ce l'avremo mai Mentre la versione di Ottaviano Domina anche il paesaggio Di Roma Insomma ecco Professore Prima che ci salutiamo Vorrei tornare Alla battaglia di Azio Dov'è Azio? Azio è da qualche parte Sulla costa della Grecia Nel nord Tra la Grecia e l'Epiro Esatto Perché fu scelto Quel posto? Fu scelto quel posto Fu scelto Come si diceva prima Questa è una guerra mondiale Naturalmente Quella fra Augusto Ottaviano e Cleopatra Fra Ottaviano E Antonio e Cleopatra È una guerra mondiale Il che vuol dire Che si combatte in Egitto Si combatte nei Balcani Si combatte in Grecia E Antonio e Cleopatra All'inizio Progettano l'invasione Dell'Italia E per l'invasione Dell'Italia Ammassano le loro forze L'esercito E la flotta Che dovrà trasportarlo Sulla costa greca Abbastanza a nord Potrebbero sbarcare in Puglia Per intenderci E Ottaviano Contrattacca Fulmineamente Cioè prende possesso Di alcuni porti Di alcune basi In Grecia Che erano indispensabili Per Antonio Per lanciare l'offensiva A quel punto Antonio esita Ad attaccare Ed è Ottaviano Che attacca Quindi sostanzialmente La flotta di Antonio Viene bloccata Nella baia Dove stava accumulando Le sue risorse In vista della futura Invasione dell'Italia La flotta di Ottaviano Attacca Quella di Antonio e Cleopatra Esce ad affrontarla E si scontrano lì Ma in sostanza Quello che doveva essere L'attaccante Si è ridotto a essere Invece Il difensore E come se Facendo un esempio Di quelli Strani Stravaganti E come se Poco prima Dell'invasione Dell'attacco In Normandia Nel giugno del 44 Hitler Avesse Attaccato L'Inghilterra E così Se Hitler Avesse avuto Una flotta Forte Quanto quella Angloamericana Avrebbe potuto Attaccare Southampton E gli altri porti Dove si stava Ammassando La flotta Di invasione Antonio Sottovalutò L'importanza Della flotta Romana In quel momento Ma su questo Anche qui Devo dire Che uno Ha dei dubbi Perché appunto Gli autori antichi Ci dicono La flotta di Antonio Era fatta Di navi pesanti E poco manovrabili E quella di Ottaviano Era fatta Di navi più leggere Non si capisce Perché Antonio Dovesse aver fatto fare Delle navi Meno manovrabili Era un romano Anche lui Era un generale romano Forse perché doveva Portare tutte le truppe Ma Però insomma Ecco io credo Che a volte Dopo l'esito Di una battaglia Si tende a esagerare Le differenze tecnologiche Per spiegare Come mai uno ha vinto E uno ha perso Ma io non sono così sicuro Professor Barbero Mi ha stregato E voglio passare Assolutamente La serata E forse la nottata A leggere qualcosa In più Sulla battaglia di Azio E tutto ciò Che c'è intorno Ma ecco Tutto ciò Che c'è intorno Perché appunto Sulla battaglia di Azio In realtà Sappiamo così poco Che si fa in fretta A leggere Tutto quello che c'è Lì mi ha già detto Tutto lei Adesso voglio leggere Io consiglierei Un libro Intanto Che è di Giovanni Brizzi Intanto perché È di Giovanni Brizzi C'è uno dei nostri Grandissimi studiosi Di storia romana Ed è il primo volume Della sua storia di Roma La prendo un po' La lontana quindi Che si intitola però Dalle origini Alla battaglia di Azio Il che vuol dire Che un grandissimo Studioso della storia di Roma Ha individuato La battaglia di Azio Veramente come La cesura Fra due epoche Perfetto È un libro magnifico Raccomando Ai nostri spettatori Di leggerlo tutto Non andare subito Alla fine Alla battaglia di Azio E ringrazio Il professore Alessandro Barbero E i nostri storici Saverio Albertan Davide Esposito E in particolare Ripeto Maria Grazia Cinti Passo quindi Alle conclusioni Alessandro Barbero Ci ha ben spiegato Che ruolo ebbe Il testamento di Antonio Nel far pendere Le fortune Dalla parte Di Ottaviano In che senso? Lo racconta Svetonio Ottaviano si presentò Davanti al Senato E lesse A sorpresa Il testamento di Antonio Antonio era ancora Potentissimo Stava con Cleopatra E da questo testamento Veniva fuori Che Antonio Assegnava Tutti i suoi diritti Ereditari Ai suoi figli Avuti con Cleopatra E anche a Cesarione Il figlio che Cesare Aveva avuto Con Cleopatra Stessa Bene Fu in quel momento Che il senato Fu completamente Si schierò completamente Dalla parte Di Ottaviano L'idea L'idea Che tutto ciò Che avesse avuto Antonio Sarebbe andato Destino A dei romano Egiziani Ai figli di Cleopatra Era un'idea Che portava con sé La perdita Della sovranità Di Roma Della sovrania Della sovrania